Ciao, come sai Sherpa è una community che è nata per divulgare e far conoscere a più persone possibile i metodi del design e Figma è un strumento che forse è il più usato da UX e UI designer per progettare e prototipare le interfacce digitali. Figma ha un piano gratuito e produce anche tantissime risorse che pubblica sui suoi canali YouTube e sul suo sito per imparare ad usarlo, sempre in maniera gratuita però in inglese, quindi ci è sembrato doveroso creare un accesso quanto più democratico possibile a questo strumento registrando anche un corso in italiano per le persone che parlano italiano, per designer che parlano italiano. Quindi questo corso è stato ideato e creato dalla community per la community e quindi chiunque della community può contribuire ad ampliarlo e migliorarlo, puoi farlo anche tu ovviamente. Il corso è strutturato in tre giornate, questo per darti un po' la possibilità di seguire un processo graduale ma continuo, quindi cerca di attenerti al programma e poi potrai inviare le tue esercitazioni o le tue domande, le tue dubbi, se qualcosa non ti è chiaro, sul nostro canale Figma all'interno della community di Discord. Quindi non mi resta che augurarti ovviamente un buon lavoro, buone lezioni e a presto. Ciao!